FEDES DIRÀ ADDIO ALLATV Factor 2018 sono disperati. Fedez, giudice del talent da molti anni, amatissimo dal pubblico a casa, ha deciso di non partecipare più alla prossima edizione del programma. Lo ha annunciato lui stesso durante un'intervista a News Media 7 e sembra proprio che la sua decisione sia irrivocabile. Fedez è giudice ad X Factor del 2014, ma ormai sembra che il suo tempo nel talent di Sky 1 sia terminato. A suo dire il rapper vuole concentrarsi di nuovo unicamente sulla sua musica. Ma cerchiamo di capire insieme i motivi dell'addio di Fedez a X Factor. Che ci sia di mezzo anche il suo nuovo disco Paranoia Airlines. Fedez lascia la TV e X Factor i motivi. La decisione di lasciare X Factor 2018 al termine di questa edizione arriva a pochi giorni dall'uscita del suo nuovo album, Paranoia Airlines, ma anche dopo l'eliminazione della sua concorrente Renza Castelli finita al ballottaggio con Naomi, anche lei del team over di Fedez. Proprio nella serata degli inediti del quinto live di X Factor 2018? Che la decisione di Fedez sia in qualche modo collegata a questo episodio. Fedez però non cita questo inconveniente e dichiara che, anche se non ha mai smesso di fare musica, ora vuole dedicarsi solo a quella, mettendo anche un po' da parte la sovraesposizione mediatica cui è sottoposto. . Fedez, Paranoia Airlines nel disco i motivi dell'addio a X Factor 2018 . Interrogativo come vi abbiamo anticipato, l'annuncio dell'abbandono di Fedez da X Factor 2018 arriva in concomitanza con l'annuncio della data di uscita di Paranoia Airlines, nuovo album di Fedez. Il 25 gennaio 2019 infatti arriverà questo album e, a marzo, inizierà il suo Paranoia Airlines Tour 2019. Il disco, come si capisce dal titolo, parlerà di una delle paure più grandi di Fedez il non sapere cosa si fa e dove si sta andando. Che proprio il disco lo abbia portato a riflettere meglio su cosa concentrarsi a livello lavorativo. È per questo che Fedez non parteciperà più ad X Factor dal prossimo anno. . Le motivazioni reali, probabilmente, non le sapremo mai e quindi lasciando da parte inutili congetture è meglio mettersi l'anima in pace e iniziare a fare un toto nomi per il giudice che sostituirà Fedez nel 2019 a X Factor. .